Preoccupazione per Mirta Merlino dopo la situazione di Pomeriggio 5, il futuro non sembrerebbe così stabile per la conduttrice Il suo ingresso al posto di Barbara D'Urso è stato molto turbolento e quello che è accaduto successivamente ha dato sicuramente modo ai telespettatori di conoscere e apprezzare il suo operato ma anche di chiedere insistentemente il ritorno della D'Urso, volto noto e legato al programma da tanto tempo Si è aperta quindi la strada ad un'altra verità che si scontra da un lato con i numeri e dall'altra con la volontà del pubblico a casa Che Pier Silvio Berlusconi abbia un piano consolidato di modifica della rete appare ormai chiaro, nessuno prevedeva però alcune scelte ardite Mirta Merlino preoccupata per Pomeriggio 5, collega le soffie al posto Le voci di un cambiamento innovativo di Mediaset sono ancora attive, questo vuol dire che presto potrebbe essere tempo di dire addio anche a Mirta Merlino, a quanto pare la sua edizione di Pomeriggio 5 potrebbe finire molto presto Si vocifera infatti che sia pronta già una sostituta, Simona Branchetti, anche se la conduttrice resterà sulla rete ma passerà con molte probabilità a un talk su rete 4, idea primaria di Pier Silvio Non è chiaro se ovviamente questa sua partecipazione a Pomeriggio 5 sia stato un esperimento e la voglia di cambiare ma anche di attendere eventuali protagoniste nuove e comunque inclini a questo tipo di programmi e se quindi l'opzione di passare ad un altro formazia comune oppure se sia stata una decisione netta, quindi per volere dei numeri che non sono stati dalla sua parte Sicuramente per il pubblico a casa è stato uno scossone, D'Urso era il volto di Mediaset e soprattutto del pomeriggio di Canale 5 Nonostante le critiche è stato difficile per tutti approcciare ad un personaggio completamente diverso, uno stile differente del programma e una conduzione così profondamente modificata Il talk su rete 4 sarà probabilmente in prima serata, quindi non si tratta di una bocciatura vera e propria ma probabilmente di un'idea nuova che Pier Silvio Berlusconi vuole coltivare anche per sperimentare Un nuovo inizio per Mediaset quindi che si troverà di fronte ad un ulteriore cambiamento Il piano di Pier Silvio intanto continua e prende vita per la trasformazione radicale della rete che pur abbracciando quelli che sono i dettami della tv commerciale sta revisionando moltissimi programmi e soprattutto la linea di tutti i dettagli, presentatori compresi Grazie a tutti